i ragazzi che hanno portato lo standardo sul terreno di gioco pronti a riarrotolarlo e insomma tra poco la gara avrà inizio questo confronto dicevo tra l'Aquila e San Buceto si ripete in pratica la finale dello scorso anno per notizie, interviste, curiosità e comunque soprattutto per umori delle panchine e vedere un po' come gli allenatori cercano di vivere questa gara che ha appena iniziato l'Aquila-San Buceto la battuta del calcio d'angolo, ancora il colpo di testa da parte di Diarrà davvero pericoloso, avesse impresso una forza maggiore sarebbero stati davvero guai per il portiere avversario quindi prima occasione dell'Aquila che continua ad attaccare in verità i propri tiri in porta verso la porta di Giacomo Di Donato non ce ne sono stati, ci sono state due uscite volanti in ogni caso l'Aquila che cerca di stringere i tempi e di affilare le armi ma soprattutto di inquadrare bene lo specchio della porta del San Buceto ha provato un uscito con i pugni ma è stato anticipato al proprio compagno di squadra credo che sia stato addirittura proprio Sparvoli Sparvoli, la battuta da parte di Sparvoli il pallone che va a ricadere proprio vicino al portiere Camplone, il calcio di punizione, pallone, cerchio di centrocampo per andare via Ventola, Ventola va via bene in profondità il pallone a Barro in tiro da parte di Barro chiedeva una posizione di fuorigioco e tutto buono uscita ottima da parte di Gabriele Barbagallo che così salva la propria porta ma Ventola è stato davvero molto molto bravo ad andare via in profondità a tagliare praticamente centralmente centrocampo e difesa a toccare per Barro che era sì posizione decettrata comunque in buonissima posizione di tiro il resto l'ha fatto Barbagallo come hai raccontato tutto questo alla mezz'ora esatta di questo primo tempo ancora 0-0 reti inviolate ma il San Buceto è andato vicinissimo alla realizzazione vediamo se così è direttamente Massetti che va al traversone il colpo di testa la parata plastica da parte di Giacomo che bella parata Lorenzo sì assolutamente sì perché di Donato si è visto all'improvviso arrivare questo pallone colpito di testa l'istinto ha fatto la differenza e ha buttato in angolo vediamo se proverà Spalvoli con il tiro a rientrare eccolo qui infatti direttamente verso lo specchio della porta difesa da Gabriele Barbagallo che però non si fa assolutamente ingannare esce dall'area dei rigori il duplice fischio precisissimo da parte di Pier Ludovico Arnese 0-0 sì attenzione perché c'è stato proprio una azione fermata dal direttore di gara proprio al limite dell'area vediamo un po' la regia che ci ripropone è appena fuori sì l'azione era iniziata proprio appena fuori sul limite dell'area di rigore al lato corto quindi aveva visto bene il direttore di gara seguiamo questa azione calcio di punizione in favore della formazione dell'Aquila che è andato a guadagnarsi questo calcio di punizione grazie alla regia di avercelo fatto rivedere naturalmente intanto sul lato corto ci sono corticchia vediamo se c'è vicino a lui Marchionni che va invece a prendere posto al centro dell'area vediamo chi sarà l'incaricato della battuta di questo calcio di punizione il tiro a parte di Mazzetti il colpo di testa da parte del numero 14 Henry Schiba e gol da parte dell'Aquila subito a freddo secondo minuto di gioco vai Lorenzo che belleità anche la potenza non era granché tra l'altro anche centrale quindi nessun problema per l'estremo difensore in maglia arancio Coro Luca Orlando che con il destro va a tagliare di prima verso Barro attenzione Barro può andare al tiro però preferisce appoggiare sull'esterno in area vediamo un po' se riesce a tirare la parata di Barbagallo che ci mette il piede al decimo guardate il replay l'intervento di piede di Barbagallo sul tiro di Luca Sparvoli poi però ancora un colpo di testa da parte di Federico D'Angelo attenzione perché c'è il gol di Barro diciottesimo minuto diciannove il pareggio da parte del San Buceto contrasto aereo con il neo entrato Mattia Rodia pallone che è sceso sul destro di Barro che è stato bravissimo nell'anticipare l'uscita di Barbagallo e col destro il pallonetto che si è infilato alle spalle dell'estremo difensore Aquilano uno a uno e per ora il cambio e cioè l'unico quello di Rodia ha portato bene a Zambuceto vediamo la battuta d'angolo da parte della formazione Aquilana vediamo un po' se qualcuno riesce a colpire di testa poi all'ultimo momento è riuscito a liberare e cerca il Pertugio invece tocca per Sarrizzo per andare al traversone ancora c'è fallo in attacco da parte di Sarrizzo al quarantanovesimo minuto finito vediamo Lorenzo uno a uno al termine del tempo regolamentare dopo quattro minuti di recupero uno a uno si andrà ai supplementari corticchia vediamo un po' come si riassetterà la squadra attenzione ammunizione rosso attenzione rosso e non può uscire più corticchia perché è stato ammonito in precedenza ammonito anche in questa occasione quindi doppio cartellino giallo ed espulsione lo sta guardando Epifani lo sta guardando e dice ma come si fa ma come si fa ma come si fa perché ovviamente cambio bruciato per questa espulsione combinata a corticchia calcio d'angolo in favore della formazione dell'Aquila pallone che viene alzato molto bene il colpo di testa all'uscita anzi il pallone che il portiere si è ritrovato in bocca intanto opportunità per l'Aquila per sfruttare questo calcio da fermo Massetti Aquila pericolosissima ha realizzato il gol su calcio d'angolo ma anche in occasione un calcio di punizione è stata molto pericolosa eccola qua il colpo di testa il colpo di testa implacabile di Stefano Scipioni l'Aquila in vantaggio proprio sul finire del primo tempo supplementare Daniela l'esultanza da parte della panchina sì Enzo tutti sulla neve quasi questo campanello di giocatori in campo i panchinari che si stanno abbracciando un grande gol quello di Stefano Scipioni molto felici anche i compagni perché Stefano Scipioni lo ricordiamo non è un titolare Enzo però è un ragazzo è un giocatore che ogni qualvolta poi Mister Epifani lo ha chiamato nella mischia si è fatto sempre trovare pronto è un gol pesante è un gol importantissimo questo è il suo con quel volo di testa con quel colpo di testa intanto finito il primo tempo supplementare 2 a 1 in favore della formazione dell'Aquila a voi ragazzi vediamo un po' se riuscite a beccare qualcuno va ad inscenarsi il secondo tempo supplementare di 15 minuti 2 a 1 e ritornate in vantaggio la formazione dell'Aquila battuta per la formazione teatina di Donato Ronci Lorenzo che si allora ti dico vabbè è uscito Marchionne col numero 17 tra le file viola è entrato Carminelli un 2005 per un 2005 eccolo qui il neo entrato che tocca il suo primo pallone del match a te la battuta il pallone e la rete pareggio il pareggio le emozioni non finiscono mai le emozioni al pallozzi non finiscono mai e noi di rete 8 ve le stiamo raccontando in diretta a me è rimasto è rimasto complicato individuare Carminelli 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 il 2005 incredibile classe 2005 il traversone è direttamente in area la mancano in due la mancano in due l'arbitro dice che si può finire qui calci di rigore quindi due a due al termine dei primi 90 minuti e anche dei due tempi supplementari Marfisi contro Barbagallo la rincorsa pallone a destra portiere a sinistra il fischio da parte del direttore di gara il sinistro la palla nel sacco uno a uno sconteggio dei calci di rigore se volete tre a tre Camplone palla nel sacco il tiro la parata di Didonato con una freddezza straordinaria Nicola Santirocco realizza il fischio il tiro centrale a mezza altezza forte Massetti è lì sul pallone il gol anche qui è andata a gonfiare la rete la rincorsa il pallone in rete ed è festa Sambuceto Sambuceto che si aggiudica la Coppa Italia di eccellenza dopo una doppia rincorsa possiamo bendire quindi che the winner is Sambuceto e possiamo augurare anche di andare avanti in questa manifestazione a livello nazionale eccola qui la Coppa viene alzata da Capitan Marfisi l'applauso del Pallozzi alla squadra di Donato Ronci